buongiorno ragazzi sono sebastiano della laser game siamo qui oggi per presentarvi la linea delle pistole clock star carmuse per l'occasione la match e la super grid allora partiamo con la match cos'è la match di particolare 1 il carerlo lavorato al cnc sgancio rapido del caricatore polimono rinforzato e il caricatore da 23 bb allora andiamo soprattutto allo pop regolabile questa cosa importante allora andiamo nella a fare un piccolo test allora arriviamo sentire la potenza di questa pistola il bello di questa vista la quale innanzitutto che avvicine le grego nel grilletto c'è la sicura come nella glock reale a il carello è la casa scusatemi la canna dorata e carello lavorato in cnc passiamo alla super grid allora la super grid ha sempre un carello in metallo meno lavorato ma non meno per la sua importanza spara 0 98 stesse caratteristiche della match ma si differenzia da essa e questa pistola spara anche a raffiga innanzitutto prova a singolo scusate era in raffiga vi faccio vedere che spara anche a singolo come facciamo a farla spara in raffiga ha uno switch questo switch si risposta e la pistola spara raffiga adesso andiamo al tunnel e facciamo la prova allora andiamo al tunnel con la match vediamo 4 misura primo corpo come potete vedere 0 95 facciamo una prova al ciclo che è aperto adesso proviamo la super grid allora andiamo al tunnel con la super grid alla prova crono verificare 0 93 adesso andiamo su un ciclo di raffiga switchiamo come potete vedere la pistola è potente c'è chiaro c'è chi è chi è chi è Grazie a tutti.